Sono 3.217 i positivi in tutta la regione Campania. Il dato è aggiornato domenica 22 novembre 2020 dall'unità di crisi regionale. Nel territorio del Cilento, purtroppo, si registrano ancora cittadini positivi e decessi, ma anche qualche guarigione. Ancora un altro decesso si registra purtroppo nella città di Agropoli, mentre attualmente i cittadini positivi al covid sono 46. Nella giornata di ieri, 4 i nuovi positivi a Capaccio Pestum, con un nuovo cittadino che, negativo all'ultimo tampone di controllo, risulta guarito. Si aggiorna così a 73 il totale degli attuali positivi nella città dei Templi, con 154 persone in isolamento domiciliare e 57 guariti totali. Dobbiamo continuare a essere attenti e responsabili, rispettando le norme anti-covid di base, con particolare attenzione per obbligo di mascherina, distanziamento sociale e lavaggio frequente delle mani, sottolinea il sindaco Franco Alfieri. Sale a 13 il numero di cittadini positivi al covid nel comune di Perdi Fumo. Si tratta di due cittadini che rientrano nel contatto di una delle persone positive già in isolamento. Entrambi i cittadini sono in isolamento da diversi giorni e si stanno ricostruendo le catene dei contatti. Da Palazzo di Città fanno anche sapere che, al fine di garantire i servizi essenziali e qualsiasi tipo di assistenza alle persone poste in isolamento, è stato ripristinato il numero del centro operativo comunale 3760293698, che potrà essere contattato tutti i giorni da lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18. Nessun positivo, invece, è stato riscontrato nella giornata di ieri nel comune costiero di Montecorice. Resta a 14 il dato attuale dei cittadini positivi che hanno contratto il virus e 98 le persone in isolamento fiduciario per contatto con persone positive e dunque in attesa di tampone. Resta fermo a 22 anche il report dei contagi del comune di Castellabate, che lo scorso 20 novembre aveva comunicato la positività di altri tre cittadini residenti già in isolamento, appartenenti a tre nuclei familiari diversi e non collegati tra loro. Negli altri comuni del Cilento la situazione è la seguente. 17 persone che risultano ancora positive a Roccadaspide, 10 persone positive all'Ustra Cilento, 12 nel comune di Orria, 7 a Castelnuovo Cilento, 19 casi a Casalvilino, 2 ad Ascea, 6 nel borgo di Ceraso, 7 nel comune di Salento, 5 positivi nel comune di Moio della Civitella, 4 ad Aquara, 5 nel comune di Futani, 13 nel comune di Gioi Cilento, 9 a Camerota, 19 nel comune di San Giovanni Appiro, 26 a Buonabitacolo. Altri comuni che registrano la positività di cittadini sono Pollica, Novivelia, Celle di Bulgheria, Rofrano, Sessa Cilento, Piagine, Laurino, Vallo della Lucania, dove però il report dell'amministrazione comunale è fermo al 2 novembre scorso. Buone notizie per il comune di Roscigno, dove sono guarite tutte e due le persone positive al covid. A farlo sapere attraverso la pagina Facebook il sindaco Pino Palmieri.